Verrà presentata lunedì mattina la nuova giunta comunale di Battipaglia. Dopo le nomine dei giorni scorsi del vice sindaco Stefano Romano e di Pietro Cerullo, la sindaca francese ha chiuso il cerchio anche sugli altri nomi da inserire nell'esecutivo. Ad entrare nella squadra di governo Carolina Vicinanza, Rosaria Caracciuolo e Lucio Pastorino.